Siamo aperti perché l'ambito degli artigiani siamo aperti, perché il decreto dice che gli artigiani sono stati aperti e ci sono lavori da fare, da finire, sperando che questa cosa poi finisca, nel senso che prima o poi dovremmo pure chiudere perché la gente ovviamente ha paura a farci entrare in casa, giustamente. Stanno venendo gli albergatori con il fatto che rimangono chiusi, perché gli alberghi sono completamente vuoti che hanno deciso di chiudere l'attività e fanno qualche lavoro interno. Stiamo fornendo un po' di materiale per questi alberghi. Vernici, roba varia. Il lavoro in questi giorni è poco, c'è poca gente, cominciano ad avere paura, quindi vedi sempre meno persone sia circolare in macchina che circolare a piedi. Per quanto riguarda gli orari, questa settimana facciamo tutto il giorno, quindi copriamo sia la mattina che il pomeriggio. Dalla prossima settimana verrà fatto solo il turno di mattina, dato che c'è poca gente.